Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando dei casi di violenza contro gli operatori sanitari. Ricordiamo il caso della dottoressa di Pisa, purtroppo finito proprio con la morte della psicologa, lo ricorderete, aggredita da un paziente colpita con una spranga di ferro. Questo ovviamente è stato un caso limite e appunto che ha portato purtroppo alla morte della dottoressa, ma i casi di violenza sono davvero all'ordine del giorno. E allora oggi ad Arezzo si è tenuto un corso di autodifesa proprio dedicato al personale sanitario. Vediamo questo primo servizio. Soprattutto per chi come voi veste le tute, la tuta porta un sacco di grip. Perciò non vi dovete far mettere le mani addosso, dovete tenere un po' di distanza. Un corso di autodifesa per operatori sanitari per difendersi da eventuali aggressioni, sia fisiche che verbali. Cominciamo a fare le osse pratiche serie che possono servire per l'autotutela dei sanitari stessi. Per cui siamo venuti da chi fa autodifesa. Vogliamo capire senza essere aggressivi ma come ci si può difendere dal punto di vista fisico, ma soprattutto anche per abbassare il grado di contenzioso. La cosa fondamentale per noi è che i nostri medici, i nostri infermieri vadano tutelati a fare soccorso. Se lo mi afferra così è il solito discorso. Siccome la maggior parte delle volte siamo soli e avvisare in un secondo tempo le forze dell'ordine vuol dire far passare un sacco di tempo, dobbiamo essere in grado noi stessi di darsi delle regole, soprattutto di dare l'impressione alla popolazione che non siamo degli sprovveduti. Una risposta al crescente numero di segnalazioni da parte di medici, infermieri ed operatori sociosanitari anche in provincia di Arezzo. Sono dei momenti a tratti non facili, c'è molta tensione, c'è molto anche disagio tra le persone e a volte si ripercuote con atti di violenza che possono essere non soltanto fisici ma a volte anche proprio a livello verbale importanti. Anche a Arezzo sono accaduti episodi di questo tipo? Purtroppo sì, purtroppo ne siamo stati, alcuni di noi purtroppo coinvolti. Da qui l'idea del baratto di competenze, uno scambio formativo tra l'ordine delle professioni infermieristiche e l'associazione Ombudogio. Insegnerò ciò che insegna la sanità, la prevenzione, perché è dalla prevenzione che si può partire con una difesa efficace, non trovarsi nella situazione di rischio, mitigare la situazione quando si viene a creare e in estrema razio quando c'è da fare qualche cosa bisogna avere un minimo di competenze per poterle fare. Da qui come riuscire a intervenire su una persona che non sembra, ma in questa maniera io sto occludendo le due giocolari, una col braccio destro e l'altra utilizzando il braccio sinistro. Questione di poco, come il Mataleon, c'è l'equivalente di uno svenimento. Circa l'89% del personale sanitario, secondo i dati dell'Ordine delle professioni infermieristiche, è stato vittima di un'aggressione. Questo è un dato molto allarmante perché chi è in un luogo di cura, chi è in un ospedale, chi è sul territorio in un momento acuto, quindi magari in emergenza, è necessario avere anche la sicurezza, anche la tranquillità di poter operare in quel momento. Pertanto avere anche degli strumenti in questo momento che ci possono aiutare a superare questa paura è veramente fondamentale. Presente all'avvio di questo corso anche il direttore generale dell'Asle Toscana Sud-Est, Antonio Durzo, che invita tutti gli operatori a denunciare. La reazione dell'azienda, oltre che quella mia personale, è di estrema condanna di chi esercita violenza nei confronti degli operatori sanitari. Nessuna forma di violenza, né fisica né psicologica, deve essere esercitata nei confronti di alcuno. Ma questo vale come regola complessiva del vivere civile. Sulla questione del Casentino abbiamo appreso dell'archiviazione decisa dalla Procura, ma questo a gennaio, per un episodio di violenza, ma l'accusa era di interruzione di pubblico servizio. Ora, evidentemente ci sono diversi profili di responsabilità. Noi come azienda abbiamo alzato l'attenzione su questo campo. So che la stessa attenzione la pone la Procura della Repubblica e la stessa attenzione la pone il prefetto di Arezzo, con cui stiamo stilando un protocollo d'intesa per rafforzare l'intervento delle forze di polizia e anche l'intervento della Procura della Repubblica per perseguire creati, delitti di violenza e di lesioni personali, di percosse compiute nei confronti degli operatori sanitari. La violenza, i casi di violenza, di percorsi di lesioni personali sono atti d'ufficio da parte della Procura, però è sicuramente indispensabile che qualcuno informi la Procura. Nel passato alcuni operatori sanitari hanno preferito non denunciare casi, piuttosto soprassedere all'episodio di violenza che avevano subito. Ritengo questo atteggiamento magari rispettoso della situazione particolare della persona che era affidata alle loro cure, però ritengo che l'atteggiamento deve essere quello di denunciare questi fatti, perché una società civile come quella in cui noi viviamo non deve tollerare queste specifiche derive del vivere civile. Una persona è stata ritrovata senza vita ieri in via Giuseppe Verdi ad Arezzo, in pieno centro sul posto, i sanitari del 118 e la polizia. Si è trattato di una morte naturale avvenuta tra le pareti domestiche. Il corpo è stato ritrovato verosimilmente molti giorni dopo il decesso. Ieri è stata una mattinata movimentata nella zona di Pescaiola e anche nel quartiere del Giotto. Due gli episodi appunto a carico di una donna che a bordo di un'auto ha urtato altre macchine in sosta, senza poi fermarsi e dare poi anche in escandescenza all'interno di un esercizio pubblico. Sono stati allertati i vigili urbani, gli agenti si sono portati sul posto, hanno fermato la donna che è stata denunciata a piede libero. È stato poi anche necessario l'intervento di un'ambulanza per verificare il suo stato di salute. Un video che era normale che così fosse diventato virale è stato registrato proprio nell'area del Prato di Arezzo, quindi in pieno centro storico a ridosso della Fortezza Medice. Come vedete c'è un cinghiale che passeggia serenamente appunto nel manto erboso. Ormai insomma questi animali selvatici, gli ungulati, sono davvero arrivati non solo alle porte della città, ma a questo punto proprio nel centro delle città. Un fenomeno che ovviamente non accade soltanto ad Arezzo, ma insomma come dicevamo questo video realizzato appunto da un residente, da un cittadino che poi ci ha consentito di poterlo pubblicare, è diventato virale. Cambiamo decisamente argomento e parliamo dell'emergenza a maltempo in Emilia-Romagna. Oggi ad Arezzo il presidente nazionale di Confcommercio per una iniziativa del terziario donna, che si è occupata proprio dell'occupazione femminile in Italia e in Toscana, ma prima ancora di questo c'è stato il messaggio di solidarietà appunto alle popolazioni colpite dal maltempo in Emilia-Romagna ed in particolar modo anche al tessuto commerciale. Tutta la nostra solidarietà e la vicinanza alla gente straordinaria dell'Emilia-Romagna è colpita da questa calamità, è molto importante, è una gente la cui reazione oggi è un esempio di coraggio e di tenacia per tutti. Noi come Confcommercio attraverso anche la nostra fondazione Orlando faremo fine in fondo alla nostra parte e alcune attività resilienti stanno già partendo, sono attività che fanno parte del terziario di mercato dove la presenza femminile sia in termini di occupazione che in termini di imprenditoria è molto rilevante e significativa. E allora parlando proprio di disastri ambientali, noi ne abbiamo parlato con un geologo che collabora anche con l'Istituto di Geotecnologie dell'Università di Siena che è a sede a San Giovanni Valdarno. Sentiamo. Ecco, con quello che sta accadendo nel Mugello ma anche in Emilia-Romagna, come si monitora il territorio e come ci si difende da quelli che ormai sono i cambiamenti climatici sotto gli occhi di tutti? Allora, la difesa dai cambiamenti climatici e comunque dal rischio idrogeologico passa attraverso le azioni sui due fattori del rischio che sono la pericolosità degli eventi e la vulnerabilità. Purtroppo il nostro territorio è molto vulnerabile, l'abbiamo visto, ormai è cosa nota. Per riuscire a lavorare su questi due fattori del rischio dobbiamo intervenire, intervenire sul territorio attraverso molte azioni possibili, tutte ovviamente che hanno un costo. tra queste c'è il monitoraggio. Il monitoraggio è il controllo, è quindi la misura di quei parametri, indice, che ci mostrano quanto un territorio è vulnerabile. Lo si svolge sia attraverso i canali satellitari, quindi le foto satellitari, che ci permettono con delle elaborazioni di andare a conoscere le condizioni di movimento e quindi di vulnerabilità del territorio per certi tipi di fenomeni. Per altri tipi di fenomeni questo metodo non è adatto per motivi tecnici e quindi ci sono altre tecniche, tecniche da terra, quindi un monitoraggio che si fa direttamente dal sito di interesse. I fenomeni purtroppo più difficili da monitorare sono i fenomeni che ora si indicano con il termine di flash, il flash flood, cioè tutto ciò che avviene in maniera improvvisa e senza precursori, senza indicatori che permettano di fare delle previsioni, perché il monitoraggio è evidente che lavora sui fattori predittivi, cioè si riesce a intuire, a capire quale potrà essere l'evoluzione di un fenomeno quando questo ha delle manifestazioni precoci. Quando, come in certi casi non ce li ha, purtroppo diventa veramente complicato essere pronti e preparati e non essere colti di sorpresa da certi fenomeni. Sono più frequenti l'uno o l'altro caso in Italia, ma anche in Toscana? Sono frequenti tutti e due, con la differenza che quelli controllabili poi si cerca di risolverli e di evitare che portino alle catastrofi annunciate, per cui forse sono meno nell'occhio della cronaca, mentre gli altri evidentemente producono immediatamente dei danni e quindi hanno maggior risalto. Ecco, però fondamentalmente sono entrambi diffusi su tutti i nostri territori. L'Appennino è una catena montuosa di età recente, geologicamente, giovane e sottoposta a processi di smantellamento che con le variazioni nel regime delle piogge a cui stiamo assistendo purtroppo dà luogo a fenomeni sempre più intensi e bisogna cominciare a farci i conti seriamente. Tornando a parlare invece di imprese e allora di questa tre giorni, di questa convention organizzata proprio da Terziario Donna e ospitata dal Palazzo di Fraternita, sentiamo quali sono stati i temi emersi. Il mondo del Terziario è il mondo prescelto per selezione dalle donne perché addirittura abbiamo fatto il sorpasso, in particolare nel mondo dei servizi il 66,9% e perdonatemi se faccio qualche errore di numeri, è donna mentre quello maschile è al 55, qualcosa. Quindi per la prima volta nel mondo del lavoro, del Terziario, che è il mondo che ci rappresenta, abbiamo fatto il cosiddetto sorpasso. Si è conclusa ad Arezzo una tre giorni organizzata dal gruppo nazionale Terziario Donna di ConfCommercio ed ospitata dal Palazzo di Fraternita, dedicata ad Economia e Lavoro, progetti e azioni per le imprese e la società. Durante le altre giorni è stato presentato un report dell'ufficio studi ConfCommercio sull'occupazione femminile, secondo il quale ormai il Terziario di Mercato è donna. Il Terziario di Mercato è palestra di autoimprenditorialità, perché la stragrande maggioranza dei lavoratori indipendenti lavorano nel Terziario di Mercato. Il Terziario di Mercato è donna, perché su 100 donne che hanno un contratto alle dipendenze, 75 lavorano nel Terziario di Mercato, non solo, ma considerando, facendo 100, tutti quelli che lavorano nel Terziario di Mercato, 51 sono donne, nell'industria, nelle banche, solo 27 sono donne. Negli ultimi 25 anni tutti i posti di lavoro, ahimè, non voglio fare polemica, sono stati creati esclusivamente nel Terziario di Mercato. La pubblica amministrazione, l'industria e l'agricoltura hanno perso occupati. Un aspetto sottolineato anche dal Presidente nazionale di ConfCommercio intervenuto nell'ultima giornata. In conclusione del suo discorso ha toccato anche il tema della crisi demografica italiana. Credo che sia importantissimo, ha detto, sottolineare quello che i dati dimostrano. Si fanno più figli laddove la partecipazione delle donne al lavoro e alla società è più alta. Cioè, nonostante l'immaginario collettivo delle famiglie numerose al sud d'Italia, al sud ormai le donne fanno meno figli che a nord. E questa correlazione ci fa capire quanto sia importante innescare un circuito virtuoso. Spingere dunque sull'aumento della partecipazione femminile al lavoro in Italia, siamo al 49% contro la media europea del 58%, potrebbe essere la strada. Far capire quanto l'imprenditoria femminile faccia bene alla società e far capire anche che insieme dobbiamo raggiungere un equilibrio che ci permetta di vedere l'economia e anche il lavoro da un altro punto di vista, cercando di ampliare questo spazio, questo sguardo. Torniamo a parlare della Due Mari, uno spiraglio per i tempi che riguardano le osservazioni. Lo ricorderete, ci siamo occupati anche noi più volte di questo tema, il tema degli espropri che sta interessando non solo i cittadini, ma anche le imprese e soprattutto li sta preoccupando. Il sindaco incontrerà il commissario, dunque ci sarà un primo confronto anche con alcune spiegazioni tecniche. Sentiamo. Una proroga sui tempi per la presentazione delle osservazioni sul tracciato della Due Mari. E' questa la richiesta fatta dall'assessore Marco Sacchetti ai tecnici ANAS. Una questione che sta tenendo banco in città da alcuni giorni. Al centro la costruzione del tratto aretino e le conseguenti procedure di esproprio per la costruzione delle bretelle che da San Zeno vanno una alle Poggiole, l'altra verso la regionale 71 e per la stessa E78. I cittadini residenti in quelle zone, che hanno già dato vita dai comitati, nei giorni scorsi avevano incontrato l'amministrazione comunale. Ho chiesto al responsabile unico del procedimento di concedere una proroga rispetto al termine formale che mi hanno confermato essere il 3 giugno e non il 26 maggio, sottolinea l'assessore Sacchetti, in quanto molti cittadini hanno evidenziato difficoltà nel riperimento della documentazione progettuale. L'incontro è stato comunque positivo poiché sono stati chiariti alcuni aspetti del progetto e le motivazioni tecniche che hanno dato origine ad alcune soluzioni progettuali. A breve prosegue è stato fissato un ulteriore incontro tra il sindaco Alessandro Ghinelli, il commissario straordinario e vertici di Anas, in cui la sede il primo cittadino illustrerà direttamente ai responsabili di Anas le preplessità su alcuni aspetti progettuali che saranno oggetto di osservazione da parte del Comune. No della Regione Toscana all'abolizione del reddito di cittadinanza. Il diniego è arrivato sul decreto, durante la conferenza Stato-Regioni, sul decreto legge del Governo che dal 2024 dovrebbe abolire appunto il reddito di cittadinanza per sostituirlo con altre due misure. Il Governo continua a fare la guerra ai poveri invece che alla povertà, ha detto l'assessore regionale al sociale dopo aver azzerato il fondo per i contributi agli affitti. Continua a fare cassa tagliando ancora risorse alla lotta alla povertà, proprio mentre questa continua a crescere e a minacciare un numero sempre più grande di persone. È primavera, si intitola così l'incontro organizzato dal PD Aretino per lanciare la prima iniziativa per disegnare il futuro della città di Arezzo domani sera al Circolo Aurora alle 21, il primo appuntamento appunto per parlare del futuro di Arezzo in particolar modo sul tema delle politiche sociali e nello specifico della rete integrata dei servizi sociosanitari con la presa in carico delle persone fragili. Torna la pet therapy per i pazienti oncologici all'ospedale San Donato di Arezzo. Il progetto finanziato dal Calcit è partito a metà maggio e prevede la presenza di tre amiche a quattro zampe proprio nel centro oncologico. Lei è Frida, la nostra Golden, la nuova arrivata, la new entry e lei è Letizia, la veterana donata, qualche anno fa ormai sono passati otto anni dalla mamma di una paziente scomparsa che si chiamava Letizia appunto. Loro sono Letizia e Frida, le due cagnoline pronte ad entrare nel reparto di oncologia dell'ospedale San Donato di Arezzo dove torna il progetto di pet therapy. All'interno di questi reparti diciamo che si respira un'aria di ansia, di depressione. Quello che fa il cane diciamo è un catalizzatore sociale, diciamo riesce in mezzo agli estranei a far parlare le persone in un certo senso. Una pratica che sfrutta i benefici del contatto con gli animali da compagnia che già era in corso sino all'arrivo del Covid, poi sospesa e quindi ripresa da oggi. L'attesa è pesante, è pesante prima dei trattamenti, l'attesa durante i trattamenti, l'attesa per il risultato degli esami, per cui se c'è modo di in qualche modo condividere questa attesa e di ripartire il tempo in un modo un pochino più leggero, sicuramente è di grande aiuto. Un progetto possibile grazie al sostegno del Calcita. Oggi ricomincia la pet therapy, qualche mese prima abbiamo anche reintrodotto la clown therapy grazie ai nasi rossi, poi abbiamo anche reintrodotto l'accoglienza grazie ai volontari di sinergia, perciò direi che oggi il centro oncologico può dare dei momenti in cui anche il paziente può distendere un po' la sua attenzione. Proprio all'ospedale San Donato, lo scorso febbraio, una signora recuperata nel reparto di pneumologia aveva potuto salutare per l'ultima volta il suo cagnolino, un vero e proprio compagno di vita. I cani hanno peraltro delle sensibilità particolari che si adeguano molto, che come se capissero quando uno di noi è in difficoltà, ti stanno più vicino. È pazzesco, credo che ci sia un legame magico tra la specie umana e la specie dei cani. Un'invasione colorata di decine di bambini e bambine che suoneranno in contemporanea i loro pianoforti. Sarà questo il suggestivo scenario che proporrà sabato prossimo, 27 maggio, il concerto della Toys Piano Orchestra di Piano City Milano a Prato Vecchio. L'appuntamento è in programma alle 10 nella piazza Antistante, la sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che costituisce l'evento inaugurale di Aspettando Naturalmente Piano Forte 2023. La manifestazione casentinese che valorizza la bellezza della musica a 88 tasti e la sintonizza con la natura, la storia e la cultura del casentino. Parliamo ancora di musica perché è tornato l'incanto della voce cuori con il concerto Cuori in coro. Insieme per fare coro, per stare insieme, il nome proprio stato detto di questo concerto è proprio Cuori in coro, proprio per dimostrare la voglia di stare insieme, la voglia di condividere una passione e di portarla avanti. Cuori in coro è il titolo scelto per il concerto, Un evento nella chiesa di Santa Maria delle Grazie per immergersi in un suggestivo percorso corale fatto di autori e periodi musicali completamente diversi. Dopo quattro anni di stop forzato è così tornata la rassegna in canto della voce. La musica corale è a 360 gradi, il coro Cantori di Vita farà la messa di Gounod, appunto per core e organo, il coro giovanile voce e incanto, invece, c'è quattro brani dedicati al coro giovanile di Mario Zuccante e di Francesco Corrias, sempre su testi sacri che si alterneranno dall'imparadisum un salmo e poi concluderemo invece con un testo, con le parole di Dante di Arriveder le Stelle. Ospiti e protagonisti del concerto i cantori del coro escursioni armoniche della Scuola di Musica di Fiesole. Ci piace girellare un po', fare i vari generi musicali, quindi in particolare faremo dei brani sicuramente sacri, qualcosa di musica popolare, andremo un po' nel passato, andremo a fare un po' di brani di rinascimento, poi torneremo nella musica contemporanea, poi si andrà un po' a giro per il mondo, dove faremo ascoltare un brano scozzese, un brano africano, insomma ci piace un po' assaggiare generi diversi. In esclusiva assoluta per l'Italia, la violoncellista Haoyang Choi si esibirà giovedì 25 maggio alle 21, alla Casa Museo di Van Bruschi, la giovane musicista sudcoreana ha vinto nel 2022 il più importante concorso internazionale al mondo. Il Queen Elizabeth di Bruxelles sarà accompagnata dal pianista norvegese Joachim Kar nel quarto concerto della stagione concertistica internazionale, organizzata proprio dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa San Paolo. E siamo allo sport, archiviata la pool Scudetto dopo la sconfitta di Pineto, per gli Amaranto domani termineranno gli allenamenti e conseguentemente ci sarà il rompete le righe per tutti i componenti della prima squadra. Nel ringraziare staff e calciatori, dice la società in un comunicato ufficiale, non solo per il risultato sportivo, che consente con largo anticipo di poter programmare la successiva stagione, la società intende sottolineare anche l'aspetto tecnico, ma soprattutto quello comportamentale e l'unione di intenti, che ha caratterizzato questa stagione tra tutte le componenti, a partire dai tifosi che hanno accompagnato il cavallino in casa e in trasferta, sempre con grande fiducia. Tutto pronto per la scalata al Castello, l'edizione 2023, parliamo ovviamente di podismo, è in calendario per domenica 28 maggio ad Arezzo. Mezzo secolo, questo è il traguardo raggiunto quest'anno dalla scalata al Castello. La cinquantesima edizione della manifestazione, tradizionale appuntamento con il podismo internazionale, è in programma per domenica 28 maggio. Non è solo un bel traguardo per l'evento stesso e per la Polisportiva Policiano, che ringrazio per l'organizzazione, ma per la città stessa, perché ormai è un evento che si identifica con la città, l'evento di podismo, un'atletica più importante con atleti di caratura nazionale e internazionale, ne abbiamo visti tanti in questi anni e ne vedremo tanti anche domenica. Dalle 9.30 scatterà la gara amatoriale, con 350 iscritti, alcuni anche oltre ottantenni. Dalle 16 cominceranno poi le gare giovanili, che culmineranno con la gara internazionale. Lì avremo dei personaggi, direi, di altissimo livello. In ultima, proprio recentemente, a Manchester, c'è stato Faniele, l'atleta azzurro di origine eritrea, che sarà presente, quindi è cittadino italiano, che sarà protagonista di questa competizione, dovrà combattere con tanti atleti africani, poi ci sarà il campione europeo Meucci, quindi, diciamo, e altri atleti, il vincitore dello scorso anno, Isatou, quindi ci sarà, a livello maschile, un parterre veramente strabiliante. A livello femminile, lo stesso con la Muli, che è stata protagonista l'anno scorso, due anni fa, quindi vincitrice per due anni consecutivi della scala da Castello, ma ci sarà anche l'Alonedo, una delle azzurre emergenti, che l'anno scorso ha fatto un grande risultato ad Arezzo. Il percorso corrisponde al classico quadrilatero attorno a Via Roma, Guido Monaco, Via Garibaldi, Sant'Agostino, Via Margaritone, e ancora Via Crispi e Via Roma. Saranno sei giri per le donne, e dodici per gli uomini. Durante la corsa, la circolazione sarà interrotta per il tempo necessario al passaggio degli atleti, sia al mattino che al pomeriggio. Facciamo sì che domenica sia una giornata di sport e noi faremo sì di far sì che i disagi siano limitati, sia per i residenti, sia per tutti i visitatori che si vogliono godere la nostra città. Il ricordo infine quest'anno non può che andare a Giorgio Cerbai, scomparso recentemente. A lui sarà dedicato un minuto di raccoglimento, mentre metà di quanto raccolto con le iscrizioni verrà destinato all'Emilia Romagna. Ci è sembrato doveroso in questo momento di difficoltà che hanno molte famiglie diciamo vicine a noi. Prima di chiudere con l'ultima notizia di sport, una notizia dell'ultima ora che ci arriva in redazione. Ci viene segnalato un forte acquazzone anche con grandi in Valdichiana, nella zona in particolar modo di Monte San Savino. Situazione monitorata ovviamente anche dai vigi del fuoco di Arezzo. Per il momento dal comando aretino non ci viene segnalata una criticità importante appunto in questa zona come dicevamo interessata prima da un forte acquazione e adesso ancora da pioggia. Però insomma ovviamente con le immagini che ci sono scorse sotto gli occhi in questi giorni l'attenzione deve ed è così insomma rimanere sempre molto molto alta. Ed infine chiudiamo come dicevamo con una notizia che riguarda il basket. domani secondo atto della finale playoff con l'Amens con la basket Arezzo che alle 21.15 sarà ancora in campo alla palestra Toscanini impegnata contro il Prato che ha vinto lo ricorderete la gara 1. In casa Amaranto c'è voglia di tornare subito in campo per dimenticare la prestazione appunto di domenica dove la squadra ha dimostrato le qualità che l'hanno fatta viaggiare nelle prime parti della classifica per quasi tutta la stagione. vedremo insomma come andrà a finire di sicuro ve lo racconteremo grazie per la cortesia e attenzione è tutto arrivederci grazie per la cortesia